Buongiorno, benvenuti a Occhio ai Giornali, ben ritrovati come ogni mattina qui cari telespettatori di Fano TV per sfogliare insieme i quotidiani in edizione locale, il resto del calino messaggero e Corriere Adriatico e vedere che cosa troveremo nelle loro pagine in edicola questa mattina però prima procediamo con ordine, sempre previsioni del tempo e santo del giorno che è Sant'Agnese di Bohemia, Badessa, oggi è mercoledì 2 marzo, il sole è sorto alle 6.42 e tramonterà alle 17.58 Bene, previsioni del tempo, gli amici della protezione civile e delle Marche ci dicono che oggi mercoledì sarà cielo sereno, poco nuvoloso, transito di velature, precipitazioni assenti, mare poco mosso e venti di brezza attesa vediamo per domani, cambia lo scenario, almeno sulla carta, vedete la simbologia eloquente e pioggia e addirittura anche rovesci e temporali su tutta la costa, sparsi anche nelle zone interne e in particolare nel settore centrosettentrionale, quindi nuvoloso e a tratti molto nuvoloso vedete anche la colorazione delle nuvole è un grigio intenso, limite delle navicate intorno ai 500 metri quindi si abbassa ulteriormente rispetto a quello che avevamo visto ieri temperature in diminuzione, quindi di conseguenza venerdì, quindi avvicinandoci al fine settimana migliora un po', cielo sereno, poco nuvoloso, nubi residui al mattino precipitazioni però assenti, temperature anche qui ancora in diminuzione bene, aspettata la funzione del tempo, vedete insomma ci aspettano giorni un po' all'insegna della variabilità entriamo subito nelle pagine dei giornali, vi porto nella pagina del resto del Corriere Adriatico di Fano dove si parla di sanità, c'è progetto Fano e Udc, si rivolgono alla procura della Repubblica per alcuni episodi accaduti in ospedale, parte l'esposto rischio potenziale di vita e poi sempre si parla di sanità, nella pagina di Fano si parla di un commercialista, un noto commercialista Pietro Paolo Petrelli di 78 anni che è morto per un'emoragia interna, era scomparso un mese fa adesso la famiglia dice che quattro giorni prima era stato in pronto soccorso ed era stato dimesso con la diagnosi di una costipazione intestinale e gli avevano dato una purga e mio padre era molto arrabbiato e amareggiato, dice la figlia Elisabetta, per come era stato trattato e come era andata la diagnosi e le ore che aveva passato in pronto soccorso e voleva presentare un esposto e vedremo anche il suo medico di base, quattro giorni prima aveva sospettato un aggravamento vascolare e questa è la vicenda riportata nella prima pagina del Corriere Adriatico, ancora si parla però più dell'interno anche nelle pagine seguenti andiamo a Urbani e il ponte dei Cacciatori che ritornerà a essere utilizzato da automobilisti per la viabilità, quindi ci si avvia a una risoluzione, Tagliolini, il presidente della provincia dicevano che ci sarebbero voluti quattro anni, invece tra dieci giorni i dettagli di tutta l'opera il ponte dei Cacciatori a settembre riapre, ripristino quindi della circolazione e sarà possibile anche in concomitanza della riapertura delle scuole, quindi insomma una pagina favorevole rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico che riguarda più specificatamente Fano dove si parla di furti, dopo la zona del Lido è stata la volta di Cucurano e allora sfondano la vetrina, ride in tabaccheria, un bottino di quasi 20.000 euro tra sigarette e gratta e vinci siamo proprio sulla nazionale, il barista è questo qui che vedete nella foto, questo è il bar e ci sono anche altre attività commerciali che sono state interessate in questa zona in particolare la vecchia fornace che è proprio adiacente alla tabaccheria dove i ladri hanno banchettato portato via qualche vettovaglia, hanno mangiato insomma nel locale e poi anche all'autofficina Giorgini in via Bellanda dove hanno portato via del carburante e quindi anche questa è una zona presa di mira dai ladri rimaniamo in questo quotidiano ma andiamo a Senigallia, vediamo un po' cosa viene anche nella città limitrofa che è insomma ancora alla ricerca dei parcheggi pare che i parcheggi sia a ridosso del centro una emergenza una emergenza da dover risolvere e allora Iat e Giardini, due aree per la sosta, individuate appunto queste due zone la più appetita è quella di Viale Bonopera e sfuma però il parcheggio multipiano di via Cellini e insomma quindi vedremo come risolverà l'amministrazione comunale questa emergenza si pensa anche di fare una specie di circolare delle navette per mettere in comunicazione questi parcheggi fuori dalle mura verso il centro appunto in vista delle festività pasquali ed è arrivata anche la deroga per i bagnini serigalliesi che potranno montare le loro strutture proprio in virtù della Pasqua allora cambiamo il quotidiano, andiamo nelle pagine del resto del carlino andiamo in quella di Fano che apre con il rendering insomma come un prospetto in 3D di quello che doveva essere il teatro romano il sito archeologico di Via D'Amici ecco come risorge il teatro in 3D foto mai viste, la realtà virtuale ci aiuta a capire com'era questa opera spettacolare così insomma un tesoro artistico il teatro romano di epoca augustea in Via D'Amici la ricostruzione in 3D e opera di Paolo Clini e Roberta Barcaglione dell'Università Politecnica delle Marche qui vedete di fianco, di spalla tutte le proiezioni di questo bellissimo teatro che c'era nella nostra città si parla anche di sport la Nazionale Cantanti arriva a Fano e lo fa insomma con anche una novità sempre il tema della solidarietà al centro delle loro attività agonistiche presenti i cantanti Paolo Vallesi e Antonio Maggio e l'appuntamento è sabato 2 aprile al Mancini la Nazionale Cantanti in campo con una novità assoluta Fano sarà il teatro di una novità assoluta per la Nazionale Cantanti il debutto di una calciatrice al femminile Chiara dello Iacono dello Iacovo reduce da Sanremo giovani quindi vedremo l'ascesa in campo di questa calciatrice in rosa ancora nelle pagine del resto del Carlino si parla però all'interno del nostro territorio di elezioni siamo a Mondolfo che si avvia verso il voto avviso di chiamata al PD elezioni quindi il partito socialista alza i toni del dialogo e il sindaco si decide insieme questo è il loro messaggio e i socialisti chiedono appunto ruoli di vertice a seguito di queste elezioni sul resto del Carlino nelle pagine che riguardano Fano si parla dei giorni di Gioacchino e la legge speciale c'è il Placet di Napolitano avviata ad approvazione il Parlamento non è così male in ballo ci sono 6,5 milioni di euro vedete l'ex presidente Napolitano e tutto il comitato che ha presentato questo progetto sindaco, senatrice Camilla Fabri e Luca Ceriscioli nelle pagine del resto del Carlino continua a tenere banco l'ordinanza di Ricci sul giro di vite per accattoni e parcheggiatori abusivi ma a stemperare un po' le polemiche ci pensa il prefetto che dice ordinanza utile al decoro della città Pizzi dice non affameremo nessun povero e la politica in questa vicenda non c'entra nulla rimaniamo nelle pagine del Carlino vi faccio vedere l'ultima pagina che vi propongo una fuga di due studentesse a Milano finita bene sono state ritrovate subito hanno passato una notte in un albergo e volevano conoscere un ragazzo che avevano contattato su Facebook due ragazze della zona di Monte Labate tanta preoccupazione per i genitori ma tutto è finito nel migliore dei modi e poi Banca Marche la vicenda di Banca Marche le fondazioni sono due le fondazioni Pesaro e Iesi passano al contrattacco e si costituiscono parte civile e chiedono a Bianconi 26 milioni di euro di risarcimento andiamo nel messaggero il messaggero di Pesaro naturalmente che anche qui apre con l'ordinanza a tutela del decoro emanata da Ricci e il commento del prefetto che dice solo multe necessarie la campagna informativa ha fatto calare gli abusivi e poi la guerra delle vongole qui è riportato un articolo sono stati sequestrati diversi diversi quintali di vongole provenienti anche da Fano perché erano sotto misura e poi la Coppa Davis il fascino della sfida si avvicina a grandi passi questo appuntamento all'astronave di Pesaro e poi il tempo peggiora in serata lo abbiamo anche visto questo nelle altre nelle altre pagine che riguardano appunto la protezione civile vediamo come si evolverà in queste ore intanto il messaggero ce lo ha detto il prefetto appunto sull'ordinanza vogliamo tutelare il decoro e dice anche non ci saranno inseguimenti guardie ladri cose di questo tipo multe saranno elevate solo se necessarie appunto il comitato sull'ordine si è riunito per decidere come applicare questa discussa ordinanza contro l'accantonaggio che ha emanato il comune di Pesaro e poi si ritorna a parlare di una questione che ci ritroveremo un po' più in là di nuovo a ritrattare ovvero sia le fusioni di Monbaroccio di Pesaro e anche di altri comuni dell'interno c'era un referendum da fare e si capirà prestissimo se la data del 17 di aprile sarà la data utile fusione suspense per il referendum day attesa per sapere se il 17 di aprile si voterà fissata per oggi la commissione per sciogliere i nodi appunto aperti e c'è anche la proposta di Mirko Carloni l'ultima pagina è il messaggero di Fano che appunto punta sulle manifestazioni che sono state presentate dal comitato apriamo il centro 2.0 manifestazioni e sponsor per far rinascere il centro non ci si rivolgerà dicono i vertici dell'associazione ai colleghi quindi per cercare di avere i fondi necessari per queste manifestazioni ma si si pensa di rivolgersi a istituti bancari o a sponsor che finanzino queste attività presentato appunto dal comitato il ventaglio di proposte per la stagione turistica a giugno ci sarà il doppio black friday ma il pezzo forte sarà la festa dei fiori dai negozianti un appello anche al comune ma anche agli istituti di credito appunto per avere il supporto e rivitalizzare il centro di spalla vi segnalo appunto l'articolo che parla dell'esposto alla procura fatto da Udc e progetto Fano ha presentato un dossier sui casi più recenti e poi in fondo anche qui riportata la notte di ride a Cucurano locali bar e ditte furti appunto avvenuti a cavallo della notte tra lunedì e martedì i malviventi appunto hanno mangiato a sbaffo all'interno del ristorante che hanno visitato bene grazie questa era l'ultima pagina che vi proponevo per questa rassegna stampa di questa mattina un saluto caloroso va anche a coloro che ci seguono in replica grazie per essere stati in nostra compagnia e vi rimando per l'informazione a questa sera con occhio alla notizia alle 20 e 30 naturalmente come sempre puntualmente buona giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti